ciao a tutti oggi prepareremo la pasta frolla salata il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa ingredienti sono farina di tipo 00 burro uova parmigiano e sale andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 finiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina le uova il sale e il burro ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 la frolla salata è pronta formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente riporre in frigo per almeno un'ora pasta frolla salata ideale per crostate salate o biscotti salati si conserva in frigo per due giorni o in congelatore per due mesi grazie e alla prossima ricetta ci sono i 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 Grazie a tutti.